Il dramma di tanti padri di famiglia, di tante famiglie, di una intera città. L'avvertenza Gela che non decolla è la città che dalla posizione inginocchiata è passata nel frattempo a quella di un corpo inerme. Gela che langue è la politica che nicchia, che si nasconde dietro sterili scarica a barile. Roma, Palermo, Gela, con quest'ultima che piange le conseguenze del cortocircuito politico tra le prime due. In mezzo, la vicenda Eni che potrebbe svoltare in positivo, ma che stenta a decollare proprio per le beghe tutte interne al PD, partito che governa a Roma come a Palermo e che non riesce a trovare la sintesi per fare uscire dall'impasse la gravissima crisi in cui ha cacciato la nostra città. Di questo si è parlato ieri sera ad Agorà. Il rotocalco settimanale di Canale 10 è tornato ad occuparsi dell'avvertenza Gela e dei suoi ultimi sviluppi. In studio, con il conduttore, un parterre arricchito da tanti lavoratori, o sarebbe meglio definirli ex lavoratori dell'indotto, compreso quel Matteo Guerreri che nei giorni scorsi aveva inscenato la clamorosa protesta di arrampicarsi su un pontone del cantiere della Smim, azienda per la quale ha lavorato fino a qualche mese fa, per provare a squarciare il velo dell'indifferenza che stava coprendo una vergogna allo Stato puro, ossia otto mesi di mancato versamento persino della Cassa Integrazione. Drammi, disperazione, rabbia, i tanti sentimenti espressi dai lavoratori presenti in studio hanno fatto da cornici ad una trasmissione durante la quale il vice sindaco di Gela, Simone Siciliano, ha provato a spiegare gli sforzi, a volte inutili, che l'amministrazione comunale sta facendo per rimettere in piedi un'avvertenza che l'inettitudine di Roma e di Palermo ha gettato nel dimenticatoio. Le pastoie burocratiche, ma soprattutto le faide interne al PD, con Renzi che mal sopporta Crocetta e viceversa, hanno finito per fiaccare i tentativi di far uscire Gela dalla grave crisi che la sta attanagliando. Assieme al numero 2 della giunta guidata dal sindaco Domenico Messinese, in studio anche il capogruppo consigliare del PD, Vincenzo Cirignotta, e di consiglieri comunali Salvatore Scerra di Forza Italia e Luigi Di Dio di Reset 4.0. Nel parterre degli ospiti anche il lavoratore dell'indotto, Francesco Cacici, che da sempre guida la battaglia dei suoi colleghi in tutte le sedi istituzionali. E poi, dietro le telecamere, loro, i veri protagonisti della puntata di Agora andata in onda ieri sera, i lavoratori, diventati nel frattempo disoccupati, dell'indotto dell'Eni. Perché a loro era dedicata ieri sera la trasmissione di punta di Canale 10, gente disperata ma anche dignitosa, civile e rispettosa delle regole, ma che una politica becera vorrebbe relegare ai margini della società civile, spingendo qualcuno, come Matteo Guerreri, a decidere di mettere a repentaglio la propria stessa vita e la serenità dei propri familiari. A questa gente, oggi più che mai, la politica deve guardare, a dare loro delle risposte concrete e non le solite parole infarcite di aria fritta, di inutili promesse. Da Roma e fino a Palermo, senza trascurare gela, chi ha il potere di agire, agisca e non perda ulteriore tempo e soprattutto superi le discordie interne e le scaramucce sterile di bottega per dare un aiuto concreto a questo territorio martoriato, martoriato in primis proprio dalla politica e dai politici che l'hanno governata. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agora potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera su Canale 10 a partire dalle ore 21 oppure sui nostri indirizzi social già dalle prossime ore. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo con nuovi ospiti e nuovi argomenti che riguardano Gela e Digelesi.